Tutto, a partire dalla testa antica e grave, nell'omaggio alla bellezza e la giovinezza del santo, statuario e luminoso, parla di Piero. A scrivere è Vittorio Sgarbi, che sul sito del Corriere della Sera ha anticipato la scoperta che sarà il centro del nuovo numero della rivista 7. Lo storico e critico dell'arte ha infatti trovato, nell'area di appositi del Museo Civico di Sansepolcro, un'opera inedita di Piero della Francesca. Si tratta di un affresco e raffigurante sansebastiano, il martire cristiano già rappresentato dal genio rinascimentale nel politico della misericordia, conservato nello stesso edificio. Non potevo immaginare, scrive Sgarbi, che al terzo piano, nell'area dei depositi, trascurato e dimenticato, mi aspettasse un sansebastiano, bello oltre il possibile, di straordinario interesse. Come riporta il critico, si tratta di un affresco staccato, in epoca imprecisata, di elegantissime proporzioni e di misure perfette, 202 cm x 95, proveniente dalla badia di Gricignano, che pur restaurata, conserva le tracce dell'opera dopo lo strappo forzato. Nel breve articolo che anticipa l'approfondimento del settimanale, Sgarbi descrive minutamente il capolavoro Pierfrancescano. L'impianto spaziale, assai sofisticato, prevede dietro il santo una balaustra che delimita il campo tra un dentro e un fuori, diversificando le profondità. La stessa balaustra è concepita come una cornice di marmo bianco che accoglie tre lastre di serpentino, così affini a quelle che foderano l'aula nel Palazzo di Salomone, negli affreschi di San Francesco di Arezzo. All'esterno, una cornice lineare, con modanature simili a quelle che incorniciano la porta alle spalle dell'angelo nell'Annunciazione di Arezzo. Una scoperta, quella del critico ferrarese, che dà il colpo di coda all'anno dedicato alle celebrazioni per il sesto centenario della nascita di Piero, che proprio dalla natia Sansepolcro continua a stupire.